All'anno scorso aveva vinto un ragazzo toscano con una canzone bellissima, forse alcuni di voi ricorderanno. Quest'anno ha vinto una giovanissima che ha fatto tanti chilometri per essere con noi oggi, Chiara. Chiara. Quanti anni hai, Chiara? Quattro anni. Allora, Chiara ha fatto un racconto bellissimo, ma la cosa che forse mi ha ancora più colpito è stata la presentazione di video che c'hai in viaggio, no? Perché lì ti spiegavi perché hai venuto fare questo racconto e partecipare. Puoi dire ragionare. Allora, io ho partecipato perché io sapevo già della storia di Chiara. I miei genitori me lo raccontavano sempre, fin da quando ero piccola. E ho partecipato a questo concorso perché io ho sempre ammirato la figura di Chiara, che era giovane ma amava tantissimo e si spendeva con tutta se stessa per la gioia degli altri. E ho sempre ammirato la sua positività e la luce che emanava. E quindi per questo partecipato al concorso per esprimere la mia... Grazie Chiara. Allora, io le direi a Maria Teresa un segnale premio perché come ogni premio mi si rispette in Giambunale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.